Non è una scissione ma le strade si dividono, nessuno spiraglio dunque di ricomposizione in casa PDL, inequivocabili le parole del presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti vicino al ministro dell'Interno Angelino Alfano. Ci sarà Forza Italia e ci sarà un nuovo PDL a cui aderiranno 37 senatori e 23 deputati, tra cui al Senato d'Ascola, Tonino Gentile, Aiello, Caridi e Bilardi e alla Camera Iole Santelli, Rosanna Scopelliti e Durina Bianchi. Un cambio di assetti dunque che almeno alla Regione Calabria potrebbero modificare gli equilibri. Nove sarebbero infatti i consiglieri pro-cavaliere quali Nicolò, Pacenza, Albano, Tallini, Morrone, Vilasi e Bulzomi e cinque schierati con Alfano, vale a dire Orso Marso, Salerno, Minasi, Fedele e Pino Gentile. Resta da decifrare la posizione di Chiappette Nucera e tenere conto che con molta probabilità i componenti della lista Scopelliti Presidente aderiranno all'area alfaniana. Stravolgimenti dunque causa una rottura inevitabile a dire degli uomini di Angelino considerando che le vicende giudiziarie di Berlusconi condizionano troppo il PDL con conseguenti malumori romani.